Un video incredibile quello di oggi in cui oltre a farvi vedere delle bellissime foto con le colori autunnali andiamo finalmente a comparare la resa fotografica dei sensori della Canon EOS 5D Mark II contro la Mark III uno scontro fra titani che io voglio fare da sempre praticamente ma io sono sempre stato possessore della Mark II e sono entrato in possesso di una Mark III solo di recente la travagliata storia di come questo bellissimo pezzo di storia fotografica sia arrivato nelle mie mani è già pubblicato in un altro video che vi linkerò da qualche parte che vi consiglio di andare a ripescare ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia lo faccio per mestiere per aziende per privati lo faccio da così tanti anni che ho collezionato un bel numero di macchine fotografiche nel corso della mia vita e mi mancava la Canon EOS 5D Mark III ora sono molto contento perché sono riuscito a mettere le mani su questo modello usato chiaramente perché è fuori produzione quindi l'unico modo per mettere le mani su una fotocamera un po' d'epoca come questa è quella di prenderla usata io sono andato a prenderla in negozio in questo modo ho maggiori tutele, maggiori garanzie la garanzia di 12 mesi e se succedesse qualcosa in quest'arco di tempo posso quantomeno concordare che la riparazione me la paghino loro ora però prima di farvi vedere dei bellissimi colori tirati fuori da questo sensore ricordo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto di iscriversi al canale cliccando il bottone qui sotto in questo modo potrò portare direttamente nelle vostre case altre fotocamere, altri sensori, altre ottiche lo vedremo più avanti ma adesso andiamo a vedere qualche immagine e voglio cominciare facendovi un po' di blind test lo so che è una vigliaccata perché nessuno di voi riuscirà a capire quale una e quale l'altra però questo ci serve anche per capire come mai io potrei desiderare una macchina come questa rispetto alla Mark II cominciamo con qualche immagine io vi faccio vedere queste fotografie voi cercate di indovinare stoppate pure il video ingrandite, guardatele e poi mettetemi in un commento se secondo voi le fotografie fatte con la Mark III sono le fotografie A o le fotografie B ovviamente non vi imbroglio nel senso che la fotocamera A è sempre la stessa la fotocamera B è sempre la stessa ma secondo me è veramente difficile che qualcuno di voi ci azzecchi ah, tenete conto di una cosa queste sono state scattate entrambe in RAW e poi sono state esportate nello stesso identico modo quindi ho applicato gli stessi parametri su entrambe non ho applicato granché ho applicato soltanto la correzione del profilo lente e basta e il profilo colore e ho usato Adobe Color giusto per chi lo volesse sapere quindi ho fatto esattamente le stesse cose per cui quello che vedete è stato alterato in minima parte ed è quasi come esce dalla fotocamera quindi ci sono veramente poche differenze quello che state guardando è solamente l'ottica e il sensore di queste due fotocamere che andiamo a vedere a confronto ora, io che so come sono state fatte sono influenzato anche dal fatto che le ho scattate io un minimo di differenza la vedo e dov'è che la vedo? nei colori c'è una differenza ovviamente di risoluzione nel senso che il nuovo modello ha un po' di megapixel in più però laddove io veramente riesco un po' a scorgere la differenza tra questi due modelli è la colorimetria perché nel modello più recente riesco a vedere un colore più ricco riesco a vedere dei colori che hanno una peel maggiore già dal RAW e poi hanno una peel maggiore ovviamente anche una volta esportati perché il file è fatto apposta per essere trattato in quel modo esportato mentre la Mark II è macchina che io adoro io amo alla follia quella macchina però da questo punto di vista la reputo forse un po' acerba qui invece siamo in piena maturità di questa tecnologia per cui le immagini che vengono fuori da questo sensore secondo me hanno una resa che è un pochino migliore dal punto di vista dei colori la gamma dinamica è un pochino migliorata ma soprattutto e qui casca l'asino perché io dovrei preferire la Mark III sopra la Mark II? abbiamo visto che la resa non è poi tanto diversa e ve lo posso confermare in un contesto ideale dove abbiamo la luce poi qui ero all'aperto quindi non è che era luce controllata non potevo fare tutto quello che volevo dovevo adattarmi io alla luce però in un contesto dove comunque chi tiene la macchina in mano sa quello che sta facendo è un contesto dove riusciamo a tirar fuori delle ottime foto con queste due macchine sono entrambe due macchine professionali riusciamo più o meno a gestire la situazione e ad avere quello che vogliamo in tutte le nostre foto in tutti i contesti ma con il modello nuovo siamo molto avvantaggiati per quanto riguarda la messa a fuoco perché il punto debole della Mark II di tutti i modelli prima di una certa annata era proprio la messa a fuoco con questa macchina abbiamo un sistema di messa a fuoco secondo me maturo con cui riusciamo a mettere a fuoco con una precisione devastante anche cose che si muovono riusciamo a mettere a fuoco anche contesti difficili mentre la Mark II non vi nascondo che fa fatica appena c'è un po' poca luce fa molta fatica appena ci sono soggetti che si intervallano fra loro si sovrappongono tra loro fa molta fatica invece questa è un carro armato non sbaglia un colpo cioè sì qualche colpo lo sbaglia ma comunque molto meno rispetto alla Mark II e quindi se lo chiedete a me il grosso motivo per preferire una Mark III rispetto a una Mark II è sicuramente l'autofocus poi abbiamo anche più risoluzione una qualità di immagine migliore ma quello è il meno perché come avretevi magari le avete azzeccate tutti però secondo me no secondo me non le azzeccherete tutti secondo me molti sbaglieranno e più onesti diranno non vedo la differenza e quindi non è puramente la qualità di immagine che fa la differenza su questi due corpi macchina ma piuttosto la tecnologia che ci sta dietro chiaramente il nuovo modello tollera anche meglio la scarsità di luce quindi lavoriamo meglio con gli alti ISO sono tutte piccole cose che andiamo a implementare via via che la tecnologia progredisce e che poi ci orientano anche nella scelta perché io potevo prendere un'altra Mark II magari la pagavo o 400 euro invece ho preferito una Mark III per completare la linea così ce le ho tutte ma anche per fare un lieve upgrade così adesso posso utilizzare queste due macchine in contesti diversi o anche nello stesso contesto le utilizzerò prevalentemente con ottiche fisse ho messo l'85 mm 1.4 sulla Mark III e ho messo il 50 mm 1.4 sulla Mark II 50 mm che sto rivalutando e su cui forse vedremo dei contenuti sapete io ho fatto un video tempo fa in cui dicevo che il 50 mm non mi piace tantissimo forse è la volta buona che lo rivaluto vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa di buono da questa combinazione ho provato oggi a scattare con 85 e 50 devo dire mi sono piaciuti entrambi perché con le loro caratteristiche con la loro focale fissa e con la loro grande apertura danno un bel risultato non c'è niente da dire l'avete visto vi ho fatto vedere delle immagini quindi sappiamo tutti che danno un bel risultato e in certi contesti rendono veramente molto bene la tecnologia può anche essere un fattore per cui potrei preferire il nuovo modello rispetto a quello vecchio per esempio qui abbiamo una connettività maggiore abbiamo delle funzioni integrate di bluetooth che sulle precedenti erano assolutamente impensabili abbiamo un menu arricchito con dei bottoni diversi con più cose abbiamo più modalità automatiche abbiamo più modalità di messa a fuoco automatica questo è un sistema di messa a fuoco già molto progredito simile se non identico a quello della mark 4 dove abbiamo gli stessi menù di cui ho già parlato nel video sulla messa a fuoco delle mirrorless ne abbiamo già parlato ed è già uscito quel video il menu qui è molto molto simile abbiamo delle opzioni che sono praticamente identiche l'unica cosa che manca è il riconoscimento del viso e il riconoscimento dell'occhio quelle sono cose che sono state implementate più tardi e hanno cominciato a essere efficaci più tardi però gran parte delle altre funzioni quindi l'inseguimento dei soggetti l'inseguimento delle zone erano tutte cose che in gran parte c'erano già anche su questo modello e chiaramente sulla mark 4 un altro motivo per cui effettivamente potremmo preferire questa è il card slot nel senso che la mark 2 non ha il doppio card slot ha solamente la compact flash qui noi abbiamo un doppio card slot con la compact flash e una SD questa devo dire è una cosa che io non uso ne abbiamo già parlato mille volte io non uso il doppio card slot perché tutte le mie macchine ne hanno uno solo e quindi non l'ho mai usato in vita mia e una volta le professionali ne avevano uno solo oppure quelle io ho sempre lavorato con una sola card senza mai avere un problema in vita mia in questo caso ho il doppio card slot a me non interessa ma a molti di voi si e comunque poter scegliere se usare la SD o se usare la flash può essere una cosa che ci interessa perché magari abbiamo lì tante SD compriamo una macchina nuova che ha solo la compact flash e dobbiamo prenderci la memory card apposta e un lettore di card apposta solo per quella macchina in questo caso invece uno può anche dire io la uso solamente con la SD perché comunque si può usare solamente con la SD bypassando la compact flash è una cosa che si può fare e che potrebbe giocare a nostro favore a questo punto amici come sempre io vi faccio la solita domanda di rito qualcuno possiede questa macchina qualcuno la vuole comprare qualcuno l'ha venduta fatemelo sapere qui sotto in un commento ne parleremo come sempre anche in degli shorts verticali io vi risponderò con dei contenuti verticali che a me non piacciono ma a molti di voi si e quindi li faccio per tenervi aggiornati e per rispondere alle vostre domande più interessanti in modo che vada a beneficio di tutti vi consiglio di scrivervi perché così se mi fate una domanda poi non vi perdete la risposta io vi ringrazio come sempre di essere rimasti fino a questo punto con me in questo contenuto io e Canon EOS 5D Mark III vi diamo appuntamento al prossimo video A presto A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.